Questa domanda che ho sentito tante volte, io credo che meglio che dico io, devi darmi la risposta. Secondo te, chi può fare il terzino sinistro o destro se non abbiamo Previllier in lista? Abbiamo due. Credo che abbiamo fatto, dal punto di vista professionista, lo che dobbiamo fare. Adesso abbiamo visto con gli infortuni che Previllier è un giocatore fondamentale per noi, come Coulan, e abbiamo trovato qualche soluzione, ma Mesto ancora non c'è. Credo che la decisione era perfetta. Che Giorginio è un giocatore importante per noi, sicuro, 100%, ma la lista sono tre giocatori che possono entrare e la scelta doveva essere avere giocatori in fuori che non abbiamo nessuno. non possiamo dire, se parliamo del portiere nessuno dirà, oh sì, perché abbiamo bisogno di un portiere, lo stesso, abbiamo bisogno di un terzino destro, un terzino sinistro e un altro, per caso arriviamo fino alla fine. Grazie. 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 Grazie.